Tra i tanti temi di nostra competenza lo spettacolo dal vivo e beni culturali e quindi tutto ciò che riguarda in questo momento le riaperture. C'è molta pressione da parte dei mondi di appartenenza, c'è la necessità di dare risposte certamente con tutta la sicurezza e con tutte le misure possibili per garantire sia gli operatori dello spettacolo che il pubblico. Da parte dell'Agis abbiamo avuto documenti, il comitato tecnico scientifico si è incontrato con il ministro Franceschini, stiamo cercando insieme a loro di mettere a punto misure serie perché ci sia la sicurezza in tutti i teatri. C'è il numero delle persone che devono essere non più di 200 o di 400 a seconda degli ambienti all'aperto o al chiuso. Certamente noi immaginiamo che si debba tener conto anche della capienza dei locali e dei teatri. Tutto questo è necessario proprio perché è importante ripartire, ridare al pubblico tutto ciò che abbiamo purtroppo non avuto in quest'ultimo anno e quindi con tranquillità e responsabilità bisogna essere in grado di poter tornare nei nostri teatri e nei nostri luoghi della cultura.